che ringrazia il nostro Francesco Carbone. Allora voglio salutare eh Marcello Fusco e eh Pietro Agoglia ma c'è anche Salvatore Sannino tutti e tre bombe venite venite un poco di vicino a me bombe bombe di Vlad venite tutti venite tutti così li salutiamo non ci assembriamo molto eccoci qua Salvatore vieni Marcello vieni anche tu vieni da qua vieni anche tu passa dall'altro lato non passare mai davanti alla telecamera questa è una regola è una regola fondamentale allora eh siete arrivati anche voi da poco Salvatore però insomma già avete visto qualcosina? Eh in realtà io ancora no questo è il primo allenamento che assisto Pietro Iri già ha potuto assistere al primo allenamento del Napoli quindi ancora devo vedere un po' il lavoro di di Spalletti. Pietro fra poco tu sei con noi quindi ti lascio come ultimo saluto invece saluto Marcello Fusco ciao Marcello ciao Francesco ciao a tutti grazie ancora per la disponibilità che come sempre insomma ci dai e noi adesso possiamo cogliere l'occasione per darvi un nostro piccolo mangio la penna la penna fatto abbiamo fatto le penne rigorosamente rosse delle bombe di Vlad del nostro sito www.lebombediflad.it adesso consegniamo a tutta la troupe il direttore eccola qua eccola qua la penna delle bombe di Vlad grazie ragazzi Marcello hai visto pure tu pochissimo però insomma oggi secondo allenamento che vedrete si si lavora tanto infatti lo dico a tutti anche voi fra poco facciamo vedere l'allenamento quindi ci sposteremo internamente vai sì devo dirti la verità ieri da quel po' che abbiamo visto insomma il primo allenamento che siamo riusciti a vedere che siamo arrivati ieri appunto proprio in extremis ho visto soprattutto il mister capace di fare gruppo questa è una cosa che mi ha colpito molto i ragazzi sembrano molto affiatati insomma c'è stato anche quel tiro alla fune finale durante l'allenamento ieri una sorta di novità almeno per quello che siamo un po' abituati a vedere ed è un modo secondo me per per fare gruppo e questo è un elemento importante data diciamo il periodo storico particolare che il Napoli sta vivendo lo sappiamo veniamo il Napoli viene da due anni insomma un po' sfortunati e Napoli Verona ancora legge sono tutti i commenti dei tifosi l'umore dei tifosi però insomma cerchiamo di restare fiduciosi che Spalletti può fare un ottimo lavoro bene allora Pietro tu resti con noi perché dopo la pubblicità saremo anche con te grazie grazie anche agli amici delle bombe di Vlad allora Pietro sei pronto anche tu hai visto un solo all'allenamento sì 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 solamente ieri siamo appena arrivati quindi oggi il secondo però siamo molto carichi anche di seguire il Napoli per il Napoli siamo qui a posto e allora pronti con le notizie di mercato perché i nostri amici da casa vogliono sapere e allora grazie agli amici delle bombe di Vlad fatemi salutare anche Alessandro Sacco perché è ora di... Grazie a tutti